Dobbiamo fare il giro Ha! Adesso può uscire Mia carissima Evoli, che il tuo nome mi ricorda sempre Ivi, perché se non mi sbaglio in giapponese si chiama Evoli, Ivi? Anche tedesco Allora, prima mi presento, mi chiamo Sara, però anche Evoli va bene Oggi siamo qui per volare la carissima Shilonen Che da quando l'ho vista nel trailer la volevo perché è una gattina e a me i gatti piacciono tanto Ma posso chiederti una cosa, perché hai un accento particolarissimo, ma sei proprio tedesca? Sì, sono dell'Alto Adige e la mamma è italiana e il papà è tedesco, quindi ho l'R un po' moscia Anche a Parma qua di fianco a me hanno l'R moscia, quindi non preoccuparti Diamo un'occhiata al tuo Piti, siamo a 10, 15, 20, 25, 25 esatti Purtroppo vedo un Kinnic Sì, però l'avevo perso prima con Mona, la dorata E poi ho preso Kinnic perché lo volevo anche lui e adesso speriamo di vincerlo con questo qua Andiamo a 35 E go, dai Shilonen fai la brava Shilonen fai la brava, ti prego Anche perché questo è un banner abbastanza orrorifico Non offendetevi fan di Collei Fan di, come si chiama quell'altra? Candace Fan di Dory Non offendetevi perché purtroppo il banner obiettivamente non è sto granché Magari esce una bella charlottina, violenta Una kirarina Tanti quattro stelle Non ci sputerai sopra E lei è arrivata Io lo ripeto ragazzi, avessero dato uno scudo a questa qua Non avrebbero fatto male a nessuno 55 Io ho sempre una sfortunissima con quattro stelle Cioè lì sono proprio sfigata Davvero? Sì, sì, io li trovo uno multi proprio perché ci deve essere Sì, vai sempre al garantito quindi Ecco Qual è stato il quattro stelle che ti ha dato più problemi? Collei Uh, Eizo Le volevo una coppia a tutti i costi E credo abbia fatto 80 pull solo per lui Mamma mia Che tra l'altro, apriamo parentesi Eizo è stato rapito? Ha fatto un to... È andato in America Ha provato a fare scherzetti durante il pre-elezioni Ed è stato incarcerato? No, perché sarà un anno e mezzo che non torna in rate a Peizo E già è uno di quei personaggi che è stato sbattuto in gioco E non ha avuto niente Ha avuto degli eventi dopo la sua uscita Ma molti non si ricordano nemmeno il mese in cui è uscito Però dove è andato Eizo? Ok Andiamo a 75 Dai Shilone Facci sentire la musica Facci sentire la musica, attenzione Ok È in anticipo Non credo di aver sbagliato a contare 20, 30, 40, 50 Quindi è leggermente in anticipo Dai Shilone, fallo per questo bambino Fallo per questo fanciullo ed escici Fallo per lui Dobbiamo fare il giro Adesso può uscire L'ho fatto con la sua grazia Vero? Vi è piaciuto questo giro? Vi siete emozionati? Questa fa male Ma com'è possibile che non riesco a vivere? Vabbè tanto Vi dico sempre le stesse cose ragazzi Siamo in una relazione tossica Oramai io e voi Com'è possibile che non vinco neanche 50 e 50? Com'è possibile che sono sempre sbigata? Oramai posso andare a uomini e donne Che tanto il personaggino l'abbiamo creato Cioè bene o male è sempre quello Sono la gemma Galgani dei 50 e 50 Solo che lei non trova mai un uomo Io non vinco mai in 50 e 50 Dai back to back Questo non è un back to back Fase No siamo a 7 Allora 17 Niente ti ho ringiovanita Scusate siamo a 17 Con lei Posso dire una roba di con lei È una roba random Però mi è venuto in mente in questo momento Perché se non mi sbaglio anche No non è stata Forse una mica di mia madre Aveva quelle scarpe Non mi ricordo dove le ho viste Posso dire che gli stivali Con solo le dita fuori Sono la cosa più pericolosa Dell'universo Della serie Va in giro Sembra che hai le scarpe Poi arriva qualcuno Ti pesta il piede Ti rompe tutte le dita Copriti gli stivali Oppure mettiti direttamente Dei sandali E poi esatto Poi sono brutti È proprio lei signori Ma dov'è Dory? Oh mamma Attenzione signorina Che qui sono volati un sacco di E tu che non trovavi quattro stelle? Sì ma è stato pulare Quindi Guarda qui che coltivazione Bellissime Quante belle con lei Non voglio in più Il personaggio che sostituisce Naida Certo Certo Assolutamente Un po' come quando vai in discoteca Vedi una tizia Ti sembra bellissima Perché hai voluto sette vodche Oggi abbiamo la fiera Delle con lei Oggi veramente Non so se anche a lei piace Non lo so Le piace l'area tedesca Non lo so Io non capisco Comunque Un ascilone in anticipo Me la potevi dare Sì Bella sta a molti Cinquantasette Dai Ecco lei Sempre lei Ok almeno c'era una Candace di fianco Dai le pool non sono così orrorifiche A parte che non abbiamo ancora visto una singola Dory Mi piacerebbe vedere due Shilonen So che non succederà ma Oh magari Magari Dory pure lei con PD Aspettetela Oh vabbè Questo è Shilonen Dai fammi l'animazione Sì era proprio io No Volevo l'animazione Volevo la tripla Shilonen Volevo quattro Shilonen Era Dory che spacciava i suoi Non posso leggerle queste cose Non mettete Dory in mezzo alla PD di saga Bella 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 Sì Sicuramente meglio di tutti gli altri quattro stelle di sto banner Quello decisamente Eccola qua Ciao amore mio Gattona È incredibile Fisicamente è perfetta ragazzi Lei ecco Lei è il mio ideale A me piacerebbe essere fisicamente come lei Seno non gigante Però presente Cosce Giuste Bel sederino Occhi verdi Da grande diventerò come lei Ah era proprio 80 tra l'altro Tra l'altro ragazzi posso dirvi una cosa Le hanno modificato l'idol animation Io lo preferisco così Perché adesso fa il giro con le braccia basse Però conclude Conclude la pirouette in un modo molto più carino Piace di più il finale Sì mi butti giù Deia però Prima di venire No no Non me ne sono mica dimenticata Non me ne sono mica dimenticata Vieni Mamma mia quando esce Mavuica Mamma mia Deia Diventi il vicinetto Nel senso che ti buttano tutti in eccesso Mamma mia quanto godrò Bastarda Non ti devi permettere Vai prendiamo la rincorsa No Ho sbagliato Vabbè mori così Non ti do neanche una morte onorevole Non ti do neanche una morte onorevole Ballale sopra Ballale sul cadavere Ti prego Balla Ok No Vabbè suona sul cadavere ragazzi Rave dead party Guardate I rise lì sul pilastrone Allora Io mi chiamo Antonino Potete scegliere di chiamarmi Starthrone o Nino Semplicemente Antonino è un po' lungo Ci mettiamo una vita L'idea sarebbe di pullare Silone in C2 Per Soprattutto per Vraio Principalmente lui è Motivo Anche L'idea Di provare Raiden C2 Con Silone Con L'ultimate Che si fa prima Quindi avere Raiden ancora più Bombata Io ho Nubilet Però non credo Che Allora A me Nubilet Mi dispiace Non mi piace Criminal Comunque Avete capito perché ho preso solo due utenti Guardate quante risorse ha Non so se avete notato Non riscattate 301 Perché Siamo a Pt4 Direi Poi andiamo a 5 Abbiamo un numero pieno Faccio vedere i Pt Eccola qui La Clorindona Quindi abbiamo un altro 50 e 50 da vincere Andiamo a 15 Dai Silone Ringraziamo Beyoncé Ringraziamo Beyoncé Giusto che ero dimenticata di ringraziare Beyoncé Io non sono ancora in pari Con tutta questa storia Ma quando sarò in pari Capirò i vostri meme Ecco Un bello spadone per Deia Finché siamo pieni di debiti Rimaniamo giovani Oddio Spero per voi che non siate pieni di debiti Eccola Quando avevo 25 anni Ragazzi è stato un periodo In cui ho vissuto il mio compleanno Con grande crisi Perché ho detto Oddio Ho quasi 30 anni Sono vecchia Poi ho fatto i 30 anni Così a caso Mamma mia Quante preoccupazioni inutili Nel passato Eccola La scarpetta aperta Eccola L'altra scarpetta Giustamente Le scarpe si mettono a coppia No Tra l'altro Giulio Io ho dimenticato di dirti una cosa Dimmela Abbiamo anche 40 boccini Nel banner standard Con 5 stelle Articolato Beh Quando vuoi li tiriamo Io direi di pare Intanto Silonen E poi Speravo che fosse il numero Fortunello Schipperello Bella multi 45 No ragazzi Io la nuova animazione Non l'ho ancora vista Né da voi Né da me Mi piacerebbe molto Vederla Lancia di Favonio Sempre forte Sta lancia Già bella finita Però Le armi ormai No Dory ragazzi Non si è vista Sarebbe il record Evocare su 3 account E non trovare neanche una Dory Candice No Dory non esiste ragazzi In compenso a Candice Piace molto Mamma mia Chi è andese Vai vai Piccolo principe Ti prego Bimbo mio Sei biondo anche tu Portala quella Silonen Portala Guardala negli occhi Ti prego Piccolino Andiamo Vieni Silonen Sto male Raga Sappiatelo Allora E comunque Gin Letteralmente pullata Nel secondo In cui ho letto In chat Anche Gin E bionda Bimbo T'avevo La bionda La kogar Non questa bionda Voyager Vattene via Punizione per oggi Adesso uso Robin Vabbè ma tanto Ce ne sono due Dai Sì ma almeno Dacci l'animazione speciale Comunque siamo a pt9 A meno che non ci sia Un altro 5 stelle Eccola Questa vale come il 5 stelle Ragazzi Sta bavosa Di Gin Voglio piangere E vabbè Non siamo partiti Benissimo Gin meglio di molti altri Va bene Dai facciamo la singolina 10 Sto per piangere Ragazzi Andiamo a 20 E vabbè Quando sei spiegato In un gioco Quello rimane a vita Questa cosa non è giusta Basta con lei 30 Non mi sembra giusto Genshin Impact Seconda Dori 40 Se dal base Esce di nuovo Gin Io non rispondo Dalle mie azioni A me va benissimo Arrivano tutte adesso Le Dori 5 Dori ha deciso Di voler Cambiare idea Vuole essere C6 Ok 2 4 stelle Spadone Abbonato 60 Ah quello spadone lì Adesso Sudeia C'ha il suo perché Ma non solo Sudeia What? Una Barbara Mai usata Capisco Perché a me è uscita subito Gin Proprio Gin è stato Il mio primo 5 stelle Quindi non lo fai Beh si avevi già Lillard 70 Cos'è? The combo Come famo Che siamo a 70 Multi? Sì sì Andiamo Andiamo Dai doppia Scilone Ciao a tutti 80 Ok se non c'era 5 stelle Hai successo doppio Però Scilone Se vuoi essere la prima Dai Scilone Io non mi lamento Dai Scilone Bella Panterona Il doppio 5 stelle È un mito ragazzi È impossibile È inesistente Facci vedere come usi Quei bei pattinoni Panterona Guarda come turnica Bello Qui vi ho fatto scoppiare Il cervello Turnicando a mia volta Ma vabbè Sì andiamo nel banner base Facciamo questa pausa Io li sparo tutti eh 86 Ed eccolo Vai È il doble Cinque streillas Se esce di nuovo Jean Ma è Oh Perché io non ho Tommy 5 stelle Eh Questo sai che è una Delle cose più belle Che ti potevo uscire Da sto banner Perché se non Cioè In realtà La mia priorità Era un'arma Che non avevo Quindi Ben Ben L'abbiamo nominati Prima Ciao Lina Attenzione ragazzi Eh Il tomo va benissimo Non male dai Questo è molto forte Io lo gioco su Rizely Facciamo una cosa Selezioniamo comunque L'arma di Shironen Ora Non la prenderemo Perché Sto puntando a Shironen C2 E in un futuro La recupererò Ora Non credo Di eserci L'abbiamo selezionata Almeno magari Porta un po' Di fortuna Speriamo 16 Per ora Non delle belle pull Spererei in qualcosa Di meglio Questo non è qualcosa Di meglio Ma proprio no 26 Mi dai qualcosa Di bello Questo non è qualcosa Di bello Ma proprio Per niente 76 Shironen Io mi auguro Che Io credo che Dory Sia finita Siamo a 76 No Dory non è finita Dory è sempre qua Cosa facciamo? Io farei la multi Mamma mia Che piti alti Dai Vinciamo sto 50 E 50 Per favore È da 76 Ragazzi Troppi piti alti Oggi veramente Piti altissimi Shironen Ti prego Non ho visto L'animazione Sto già male Di nuovo Allora Le cose qui Si fanno un po' drastiche Perché Ora Oshikai Ce l'ho garantita Però poi Devo vincere un altro Ma perché Continuiamo a giocare A questa palta Di gioco Ma come ti permetti? Io non vedo Jin da tre anni E Jin E risolta Jin e C3 Ora Sì ma ragazzi Ma è indecente Sta roba Sempre piti 6 È uscita lo stesso Piti di prima Questa era pesante Era molto pesante Sedici Sedici What? Ah già io non ho finito L'invario Si è rotto il gioco 26 Una prima Sarebbe Bello No ti giuro È incredibile No 36 Mi viene da piangere Ragazzi Questo è il motivo Per cui ho paura E questo è il motivo Per cui vado nel banner armi E non provo a costellare C'ori Beh Mancava Solo Lei Mancava Adesso che è arrivata Possiamo fare festa Ragazzi Adesso che è arrivata Questa bomba di arma Possiamo fare festa Bella 46 Scusa Facciamo Jinchi 6 Non era quella L'intenzione È più fattibile 56 Io non ho parole Oh Una in anticipo Una in anticipo In anticipo Grazie 47 48 49 59 50 Questi sono tutti i calci Nel sedere Che si prende Shilonen 51 52 53 54 55 56 Proprio ultima Dai Mi ha risparmiato Due molti Per fortuna Smettila Non ti stai comportando bene Non ti do i soldi Per andare in discoteca Lei ha anche tutta la build pronta E mi sta uccidendo Prendo Tutte Vai vai Ok Attenzione a fare sto procedimento ragazzi Perché se vi scivola il dito E prendete i boccini del base Io non sono responsabile Di quello che può accadere Alla vostra salute Ok Andiamo a 10 Sei beccato di vincerlo questo No ti giuro È terribile Candace Non ti dico più niente 20 Non torniamo all'era Sumeru Per favore Il tuo account Non so se lo prendi come complimento Nino Ma mi ricorda il mio Ti giuro È la prima volta Che sento un'affinità di account Sono d'accordo Ogni volta che ti vedo pullare Sono lì Uguali Proprio sempre Lo schifo C'è brutte Vuote Cesse Tristi Ecco Questa è la nostra multi Nino Questa è la nostra multi 40 Niente 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 50 Niente Anche prima Risparmiarmi queste ultime risorse Noi dobbiamo andare Noi dobbiamo Noi dobbiamo Dobbiamo giocare solo a Star Rain Questo gioco non ci merita Guarda Che ci dà il flauto Dalla mulino bianco 60 Altro che ringraziare Beyoncé Oh 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 L'animazione L'abbiamo presa L'abbiamo presa live L'animazione Ho inaugurato il boccino L'animazione La prima animazione Oddio Vuol dire che stavamo stuccando di nuovo Ma il gioco ha detto Basta Siete troppo scarsi Prenditela garantita Questa Shiloden Oh meno male Ragazzi A tutti voi che dite Oh ma questa animazione Non serve a niente Ma vaffanmok per favore È la salvezza di noi sfigati Serviva ecco Senza questo io l'avrei perso di nuovo Mamma mia veramente Per fortuna che l'hanno messo Ci ha salvati Sì sì Quella era Jin Quella era Jin ragazzi Questa era una Jin Grande come una casa ragazzi Oh mio dio Che parto Che parto Che brutta roba Dio Che brutta roba Io farò la tua fine A quanto mi ha fatto soffrire Bellissima è l'animazione Bellissima Ti dà una soddisfazione incredibile È stata un'emozione Tra l'altro Non so se altri Non lo so Forse già altri italiani L'hanno fatta vedere in live Comunque Sono contentissima Di avervela mostrata Editerò questo video La velocità della luce Ma Da un senso di soddisfazione assurdo Quello boccino Che ti colora Sì Veramente bello Bello Tra l'altro Facciamo due conti Allora Tu avevi pullato Clorinde Come ultima Giusto? Sì E questa conta Parte da Natlan Quindi Clorinde Non conta Da Natlan Questa è la prima volta Che tu lavi Quindi Hai perso Hai perso 250 e 50 E il terzo È arrivato il boccino Come funziona Ragazzi il boccino Lo rispieghiamo È garantito Quando ne perdi Tre Quindi se avessimo perso Anche questo 50 e 50 In teoria Quello dopo Sarebbe stato Boccino assicurato Ma Ogni volta Che perdi il 50 e 50 Hai più possibilità Di vedere il boccino In questo caso Avevamo possibilità Aumentate Perché abbiamo perso Due 50 e 50 Di fila E infatti L'animazione è venuta In nostro aiuto È letteralmente La scala da tirare A noi poveracci Che inciampiamo E viviamo nei burroni Grazie Oiovers Sono seria Perché questa meccanica Ci serviva Come il pane Come il pane Grazie tantissime Perché Io un'altra era sumero Non la voglio fare Non la faremo lì Non siamo salvi Siamo liberi E niente Chi vola giù? Non Jin Perché la amo Butterei Candace Che continua A farti vedere Continuamente Navia perché è bionda Non venite a dire Nella mia live Che si butta giù Navia ragazzi Che butto giù voi Candace Fai la cosa Che sai fare meglio Scudaci Ah no è vero Non lo sai fare E muori A posto A posto È andato Carissimo Nino Io ti ringrazio Perché Sei stato Il primissimo utente Che ci ha mostrato La nuova animazione Del boccino E sono il primo Per forza Nessuno mi potrà mai togliere Questo titolo Sarai per sempre il primo Infatti Per la sfiga Ma prima Noi siamo sempre I primi della sfiga Infatti Sarai l'assoluto Protagonista Di queste vocazioni Grazie a questa Boccinanza Violenta Goditi La tua Meritatissima Shilonen C2 Buona fortuna Anche a te Ciao ciao Se non mi muore la voce Ciao Raga ma l'animazione L'abbiamo vista Io che avevo paura Di non vederla Entro la fine dell'anno Ma quanto è bella Posso dire che è bellissima Io adoro Quelle cose lì Nei gaccia Io adoro Ecco quelle boiate lì Ne abbiamo già parlato Con Grand Order Io le animazioni particolari Le adoro Dovrebbero metterne di più Perché sono proprio 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 belle Bella l'esperienza Di evocazione Danno un sacco Di soddisfazione Poi ti ricordi Quel personaggio lì L'ho pullato Con quell'animazione Mamma mia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.